Finisterro è un'agenzia formativa accreditata. Di cosa ci occupiamo? Diciamo che noi lavoriamo soprattutto nell'ambito della formazione per operatori sociali, per animatori, educatori, educatori di asili di nido e per tutti quelli che in qualche modo hanno voglia di sporcarsi un po' le mani nel lavoro sociale, nel lavoro di territorio. Non solo, siccome sappiamo che oggi ciò che è importante è anche aiutare le imprese, le organizzazioni, le cooperative, le associazioni, tutti quelli che in qualche modo hanno una possibilità di incidere sul territorio con le scelte che fanno, facciamo anche formazione per loro e consulenza, consulenza nelle scelte strategiche che poi vanno a fare. Ovviamente questa cosa la facciamo sempre cercando di mantenere un metodo e uno stile che è quello che ci appartiene, dell'animazione sociale e culturale, della partecipazione, dell'attivazione delle persone, del considerare le persone sempre come risorse e non come problemi.